In questo episodio di Postcards andiamo a scoprire una delle specialità della pasticceria azzera, il baklava o halva, un dolce che secondo gli esperti era già conosciuto nell'antica Mesopotamia, nel VII secolo a.C. L'halva è il dolce per eccellenza in Azerbaijan, ogni regione ha la sua specialità, scopriamo quella di Shekhi. Oltre alle nocciole aggiungono spezie, sa di timo e zafferano. Sono dolci di circa un metro di diametro, una tappa obbligata per i turisti golosi. Abbiamo provato a chiedere a un pasticcere di Shekhi la sua ricetta. Cinque strati di riso lavorato, nocciole, zucchero e sciroppo fatto con acqua e limone, bisogna lasciar riposare un giorno. Inutile insistere, non ne sapremo di più, la ricetta è un segreto di famiglia gelosamente custodito di generazione in generazione.